Buonasera ben ritrovati nuova puntata di Angoli io come sempre prima di presentare le due ospiti sono due ragazze questa sera in studio con noi vi ricordo prima l'indirizzo mail per comunicare con la redazione del programma Angoli chioccioleespansionetv.it mi raccomando scriveteci non mi stancherò mai di ripeterlo e di invitarvi a farlo le due ospiti di questa prima parte della puntata sono Lara Treppiede e Paola Re entrambe di Arte e Arte buonasera ben trovate allora l'occasione è che domani e fino al 20 di novembre esporrete tutti i lavori che fanno riferimento alla mostra internazionale di Fiber Art Mini Art Textile si è così inaugura infatti domani pomeriggio alle 17 nella ex chiesa di San Francesco e a Villa Bernasconi di Cernobbio la 26esima edizione di Mini Art Textile che ha come tema tessere sogni in mostra cosa si potrà vedere 54 mini tessili che sono il cuore della manifestazione che danno anche nome alla rassegna selezionati su 315 candidature spontanee e alcune installazioni di grandi dimensioni ok questa com'è che appunto avete raccolto queste oltre 300 opere come vi sono arrivate c'era un bando e soprattutto come avete fatto poi la scelta di quelle che effettivamente sarà possibile vedere allora anche quest'anno come ogni anno abbiamo pubblicato il bando per appunto i mini tessili che sono queste opere di 20x20x20 cm di grandezza quindi è una delle regole fondamentali per partecipare al concorso così come il tema appunto tessere sogni a cui devono essere dedicate le opere che vengono proposte quest'anno sono arrivate per il concorso dei mini tessili 315 adesioni da tutto il mondo praticamente da queste opere sono state selezionate come ogni anno 54 solo in queste 54 sono rappresentate ben 22 nazioni quindi insomma l'essere internazionale di mini art textile soprattutto anche nei mini tessili è una caratteristica che ogni anno ritorna queste appunto 54 opere sono selezionate da una giuria artistica che è presieduta dal curatore della mostra professor Luciano Caramel che quest'anno è raffiancato da Mimmo Totaro che è vicepresidente dell'associazione Arte Arte e da oltre che artista e da Marie de Paris che è una curatrice francese ok quindi insomma ci sono vari step per poi arrivare finalmente all'esposizione anche l'attinenza immagino con il tema è un requisito essenziale allora che cosa già un po' lo si sta intuendo dalle immagini che sta passando la regia com'è che si è concretizzato questo tessere sogni? allora ogni anno viene scelto appunto un tema e quest'anno si è voluto in qualche modo tornare a quello che è diciamo il cuore della manifestazione e l'intento dell'associazione Arte Arte che è legato appunto alla fiber art, alla textile art quindi la parola tessere è tornata a far parte del titolo, del tema della mostra dopo Gea, Eros, Invito a Tavola e quindi i sogni perché tutti gli artisti come tutti noi hanno dei sogni e siamo in realtà aspettiamo che domani conosciate attraverso le loro opere i sogni realizzati con appunto materiali più diversi piuttosto che tecniche particolari e sempre innovative ecco appunto anche la scelta del materiale come ha influenzato un po' anche la stessa esposizione? si parlando anche delle grandi installazioni perché certamente l'altare sarà dedicato l'altare della ex chiesa di San Francesco è dedicato all'esposizione dei mini tessili ma prima nelle navate principali e nelle cappelle laterali il visitatore sarà stupito da quelle che sono le installazioni ambientali parlavamo di materiali, non posso non citare l'installazione tape del collettivo artistico Numen4Use un trio di architetti e designer che realizza una scultura ambientale e percorribile dove il visitatore potrà entrare solamente col nastro adesivo quindi sono impiegati oltre 25 km di nastro adesivo per fare questa installazione ambientale accanto a loro sorprenderà la floating form di Janet Eichelman che è un'artista americana di notevole successo, basti solo ricordare che il suo TED Talk è stato tradotto in 34 lingue diverse e ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni altri lavori interessanti sono quelli di Thomas De Falco un giovane artista italiano che recentemente ha realizzato una performance presso l'Arapacis di Roma ora è impegnato con noi a San Francesco ma il giorno di domani nel pomeriggio lo si potrà vedere lavorare anche in San Pietro in Atrio con dei modelli e degli attori che faranno una performance estemporanea proprio per condurre poi anche il flusso di visitatori dalla città murata a San Francesco dove appunto alle 5 apriremo la mostra e lui lavora, ha studiato la scuola di Arazzo del Castello Sforzesco di Milano e lavora realizzando dei wrappi monumentali nei quali poi inserisce anche modelli che fanno parte poi dell'intera installazione quindi ci sarà anche l'opportunità di incontrare degli artisti in queste giornate sì, certamente, domani sarà proprio l'occasione per conoscere, incontrare o intravedere proprio artisti provenienti da tutto il mondo perché oltre all'americana già citata a Crystal Wagner che ci tengo a precisare è l'unica artista che installerà nella villa Bernasconi di Cernobbio con un'installazione monumentale, molto interessante un'artista giovane, già di successo americana anche essa, per esempio i suoi lavori sono stati commissionati anche dalla Nike in America per realizzare campagne pubblicitarie e quant'altro ecco, lei sarà presente e sì, sarà l'occasione per sentire parlare più lingue e leggere più linguaggi artistici diversi benissimo parliamo un po' anche dei premi perché come ogni anno sono stati assegnati due premi importanti uno che è stato assegnato alla Fondazione Ratti l'altro appunto dall'Associazione Arte Arte quali sono gli artisti premiati e che cosa si è cercato anche appunto di valorizzare a noi in queste opere con questa scelta? sì, allora appunto come ogni anno sono stati assegnati sono stati scelti tra i mini tessili due opere per appunto conferire il premio il ricordo di Cavalier Ratti e l'Associazione Arte Arte il terzo premio che è il premio Mor Rouge verrà quest'anno a differenza degli anni precedenti conferito direttamente quando la mostra verrà ospitata il prossimo febbraio nella città a Parigi appunto a Mor Rouge presso il Befrois volevo ricordare che quest'anno in realtà c'è un altro premio importante che è stato appunto è una novità della 26esima edizione che è il premio Sponga dedicato a Maria Luisa Sponga che è un'artista tessile scomparsa lo scorso anno che è stata per tanti anni una valida collaboratrice e un'amica dell'Associazione Arte Arte della mostra Mini Art Textile quindi è stato conferito questo premio e la vincitrice è una giovane ricercatrice che ha dedicato una tesi di laurea alla Fiber Art e una ragazza che studia all'Accademia di Carrara e che verrà diciamo ospitata durante la mostra il 12 novembre presso la chiesa di San Francesco verrà presentato appunto il suo lavoro di tesi di ricerca quindi ci tenevamo oltre che in mostra c'è una razza un'opera di Maria Luisa Sponga ok mentre appunto l'artista letto ne sbaglierò sicuramente la pronuncia metto le mani avanti Birutè Kaupaitè Dominaitè sì e lui è il vincitore vincitore del premio Ratti sì sì che tipo di opera ha realizzato no per capire anche che cosa è un mini tessile è un mini tessile dal titolo Dunno Still My Dream non rubate il mio sogno è un rocchetto proprio della tessitura ma poi il filo si sviluppa secondo la scritta quindi in corsivo e l'abbiamo visto passare infatti prima quindi monconopera abbastanza come dire eccolo è questo giusto così un po' anche surrealista forse sì 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 un'interpretazione proprio delle tecniche dei materiali della tessitura e del trem e del tema era quella che più concentrava tutte le caratteristiche richieste nel bando mentre l'artista spagnola che avete premato voi come Arte Arte Maria Muñoz Torregrossa ha realizzato un'opera in silenzio sì e questa opera invece come si è caratterizzata per conquistare questo riconoscimento? ma più che altro è stata una scelta personale non avevamo dei criteri stabiliti per conferire questo premio quindi è piaciuta a tutti i membri dell'associazione forse quella che più ricorda anche non so la dimensione unirica del sogno perché si vede questa biciclettina che entra in sospensione nell'aria e quindi ci sembrava ecco un'opera valida per essere premiata benissimo allora diamo qualche informazione anche di carattere pratico ovviamente noi abbiamo visto anche scorrere il vostro sito dove si possono trovare ulteriori informazioni ma fino a che ora è aperta fino a quando è possibile visitare la mostra? allora la mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 11 alle 19 diamo la possibilità anche alle scuole che vogliono prenotare le visite guidate con un'apertura dalle 9 di mattina quindi abbiamo poi i nostri diciamo contatti quindi la mail arte arte chiocciolaminiartexil.it o didattica chiocciolaminiartexil.it per quanto riguarda le visite guidate benissimo grazie allora tempo fino al 20 di novembre giusto per visitarla benissimo grazie mille per essere state con noi questa sera a raccontarci questa iniziativa noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità ma torniamo tra poco con la seconda parte di Angoli mi raccomando restate con noi grazie mille per la prossima grazie mille per la prossima Grazie.